Un accoltellamento in pieno centro a Treviso. È accaduto poco dopo la mezzanotte in piazzetta Sant'Andrea. Un'azione fulminia contro un trevigiano, 58 anni, che era da poco uscito dall'abitazione di una donna. Tre colpi secchi al fianco e al collo e al braccio, ma non mortali, che hanno permesso all'aggredito di urlare mettendo in fuga l'aggressore. L'uomo, che non ha mai perso conoscenza, ha raccontato così alla polizia, subito intervenuta sul posto, tutta la sequenza dell'accoltellamento. Ha detto di essere stato avvicinato a un soggetto travisato che lo avrebbe spinto all'interno della macchina e lo avrebbe ferito con un'arma da taglio. Tutto dentro al SUV della vittima, subito soccorsa dalla donna che aveva poco prima visitato e che gestisce un piccolo nido domestico all'interno del condominio, subito scartata l'ipotesi della rapina. Sì, tenderebbe a escludere quello di rapina perché poi non è stato materialmente richiesto nulla al soggetto. Felpa chiara con cappuccio, occhiali e sciarpa fin sotto agli occhi per non farsi riconoscere. Questo l'indizio che fa scartare anche il raptus o l'azione di un pazzo. L'aggressore poteva infatti essere riconosciuto dalla vittima, un particolare che indicherebbe un regolamento di conti o, ancora più probabile, una questione personale, magari legata proprio alla frequentazione di ieri sera. I colpi inferti infatti scarterebbero anche l'azione esperta, considerando che nonostante le zone colpite siano vitali, in realtà il 58enne se la caverà con una prognosi di una quindicina di giorni. Una vicenda dai contorni ancora oscuri, su cui ora la mobile trevigiana cercherà di fare chiarezza anche grazie alle numerose telecamere presenti in zona. Resta comunque in primo piano il motivo passionale, soprattutto perché l'agguato sembra sia stato preparato minuziosamente, tenendo conto di tempi e spostamenti della vittima e scegliendo il momento in cui nella centralissima piazza Sant'Andrea non transitava nessuno. Grazie a tutti.